ciao a tutti i ghiaccioli sono le 4 e 17 di mattina e io sto registrando perché non abbiamo solo perché non c'ho un cazzo da fare quindi registro io mi piazzo sotto le coperte no te chichi così ma io mi metto sotto le coperte perché ho freddo ah ok raga comunque ci eravamo lasciati con eravamo messi abbastanza bene fai da tre piantine un kit verde top con le freccine si sega in pratica questo è il delirio delle 4 giusto per farvi capire ce n'è un'altra e figa perché mi giro come se fosse dietro a una bomba atomica no dai si no la usi solo in casa e c'è anche uno spray tanto no due ma sono gli spray che sono ah cazzo ma non dovevi salvare need a ride handsome ok 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 per mi salvare si e non abbiamo su 5 1 capa sotto 23 che piacere ah ci facciamo tutti i capitoli quindi va bene figa ok madonna cara cara la madonna fine capitolo come un albanese stiamo arrivando sui corti italiani non so cosa guardi pirlone no ma del tipo saltami addosso ciccio no 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 e lui è così ma lei si via una vagina volante infatti non si rigoverna più con ma le donne come per dire eccoci qua giusto perché chiamò una donna ah no ma annigan è morta no ti ricordi che aspetta te lo dico dopo un altro lanciarazzi probabile so dici te allora aspetta un attimo ti ricordi che annigan non la puoi più sentire perché loro hanno interrotto la comunicazione e praticamente sono sopra di loro che cazzo è quel coso figa aspetta che ci guardo che cazzo è ah un specchio ah ok pensavo fosse tipo eh figa una roba com'è che si chiamano la plagas la plagas gigante pronta ad abbracciarti a perare vabbè raga noi abbiamo potenziato al massimo il red 9 e adesso usiamo abbiamo l'esclusivo esatto che praticamente aspetta ed io ah no era solo una lampada io intanto mi sdraio no di là no dopo vado a mangiare andiamo facciamo colazione con gli hamburger perché siamo normali qua non si può fai il porchetto dai leon fammi vedere che messner sei bravissimo ah e ottimo non è che ci serva molto in questo momento ah e prova proviamo ma secondo me no se caso si hai anche un uovo un uovo un uovo no ostia perchè ce la viaggio eccetto ci serve ci serve di un altro valore ci serve blu blu te lo dico io è blu eh ma il blu non ce l'abbiamo abbiamo il blallo che cazzo eccola caga cazzo ostia figa t'ha visto perchè ti sta già chiamando figo ma sa soltanto urlare chi lo madonna che due palle ie ok d'accordo non puoi distruggere quella luce no posso saltare oltre quello si ah wuh ma non ero nella luce e otsim comfort otakis se lo scolta ha sbacchema girati e vai di dai salta eh 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 figa sono duri eh beh intanto l'ho volesso ma è una donna quella però figa abbiamo un red 9 che fa 6.5 di danno e si nota adesso tipo munizioni le vedi adesso tipo ci vorranno due colpi per ammazzarne ora penso ottimo ottimo ah ah bene l'anima di limortacci tua proprio dio merluzzo così giusto per merluzziamo bene perfetto corri che grande inizio corri tantissimo che grande inizio signori per grandi e piccini bestemmia quei bambini ti calmi non ho capito cosa stava facendo ti calmi e ti piglio a svegli ecco via il cappello oh 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 pelatone corre e no pure loro no no aia sali 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 aia salgo eh eh no diceva aia e no poi non arriva e vabbè ma ce li hai in fila così e figa in filissimo lo vedi lo vedi lo vedi lo vedi lo vedi aia aia eh si la madonna ti voglio matare no ma non amo non amo dai gasolina penso te spekema dole e bacca merda c'è il didna mitardo no non è il didna mitardo vai arrivederla vediamo quanto è potente sta pì ah te è morto no te voglio matare porco di sve ah ah ve lo dire ah eh 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 plagas eh 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 amore si si vado su tranquillo vai che arriva ciccio bombo eh lo so lo so che lo stavi per dire cioè proprio è palese ciccio bombo è ciccio ciccio bombo ehi vieti eh non ho capito ah ok allora ammazza faccia del ciccio snello ragazzo fresco addio è pieno sul naso infatti se lo tocca e ciccio che ciccio ciccio eh vabbè se volavo giù se volavo giù ridevo ma se era un attimo gliciato dai ma non lo puoi spingere giù ci proviamo ci proviamo madonna cara vai giù amore si tranquilla le eh ci sono voluti un po' di colpi però però ti danno 15.000 fidec così ci possiamo divertire con questi coglioni accoltellalo no le morte dobbiamo fare un po' di secondo me comunque ce n'è ancora sì sì dobbiamo fare un po' di tentativi ok sono ufficialmente due colpi no è volata la palestra per terra no va eh fa male fa tanto male ma era ora sì cioè se no le munizioni andavano a fanculo c'è una scala lì sì andiamo infatti che in teoria in teoria ottimo scusami un attimo sì per la mano però sì è possibile è appunto sì bisogna ruotarlo verso ah ok in teoria quella punta lì dovrebbe è mirino che va puntato qua sei sicuro? sì 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 fidati ma sono un ingegnere ho studiato sono stato laureato in ingegneria quando? non so però secondo me devi puntare anche per quello grosso eh sì ma intanto la mia telecamera non mi sta aiutando ok perfetto l'hai lisciato tantissimo eh no perché devo girare con l'altro prima ok devo girare questo verso lo lo c'era qualcosa qua? sì munizioni per la mitraiella perché porta iel la mitraiella che abbiamo visto un tipo che non ha comprato la mitraglietta e poi si svendeva tutti eh munizioni quasi no no cazzo l'hai lisciato tantissimo eh sì ma perché più che altro non sai dove dove arriva lava tutto se scorreggi si sente ma non è vero oh figa sfatiamo questo mito che le donne non scorreggiano dai eh non è vero sì voglio riflettere il riflettore dove cavolo l'hai mandato è un po' in culo perfetto alakazam alakazam sì ti preferivi apriti sedano 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 non è sesamo perché a me il sesamo non piace quindi sedano non mi fa impazzire neanche il sedano però grazie di averci detto i tuoi interessi culinari ma però il sesamo sui panini del mcdonald è buono ed è anche quello sul sushi 158 il sushi ah puttana merda che poi qualsiasi tasto tu prenda lui fa quella capriola all'indietro è un po' che altro va bene ci sta ostia il naso si due colpi in testa ehi la tua manina te la metto in culo in teoria è certo non è veramente così facile e me lo chiedevo anche questa questa è quella che salmunda questa la plaga è già incazzata la plaga e te lo stai mancando tantissimo è vero tantissimo tantissimo di là cosa c'è andiamo vederci subito andiamo vederci un cazzo e vabbè ti faceva vedere dove erano le casse quindi tu dicevi ah porca troia devo tornare indietro a pirare le casse dobali vediamo un po' se riesco a fare un quel di qualcosa t'ha sentito tantissimo il naso lo so la pianta la pianta la roccia ok 4 coltellate e ma varia ho preso 1900 buono 1900 anche se non possiamo comprare munizioni peccato poi dopo il gioco diventava troppo semplice andiamo un po' avanti stavo scherzando ti conviene saltare oltre e no perché adesso ci sono tipo nuovi zombie da quel che me ricordo eh sono là infatti eh ho capito ma comunque devi entrare almeno che da lì guarda cecchinalo eh infatti a meno che da lì lo cecchini c'è ragione aeeh ma che zombie è è il nuovo potò dire eeeh pacca merda viga nascia nascia tantissimo chi lo ho salve ehi ehi c'è un altro per me ne ho anche uno dietro non dovrei dire no no ho sentito ah no è un balestriere è un balestriere si 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 sta lisciato andiamo un po' sparano un'altra sparano un'altra ma io non liscio uh salve ah c'è il filo spinato ok ottimo 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 ah ah shortcut no per me tesoro tesoro si minchia se c'era ancora il raggio tesoro si tesoro ah lì dovrebbe essere tipo la lince d'oro si me lo ricordavo va incastonato qualcosa si non so che bel disegno ah gente che con i peni peni dove li vedi i peni quei cosi ah sono peni sembra un pene ma perché a te ti fa male giocare a quest'ora eh oh perché a te fa bene allora penso che tu abbia una pianta verde penso di avere anche più di una pianta verde cosa che gatto dio bello stavo scherzando vecchio vedi volato c'è uno che sta correndo via ah c'hanno diventi ma la sbacchiamo ma ma ah ah no c'è il c'ha proprio l'elmetto il figlio di trota vedi devi sparare in petto ci proviamo due colpi ah ok ma a me arriva gente ah no arriva si 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 arriva gente lo dico io destra sinistra destra la racione laga eh lui si ma non penso sia una cosa casuale no perché gli altri non erano più fuori ostia erano in fila erano perfetti che cazzo oh il frost ci c'è giù di esce cosa ho detto ecco lagas no ce l'ho detto ah yeh oh cioè allora penso che la folla sta almeno qui elettrifico oh 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 raga con calma eh ah scusa ma pensavo dovevo saltare oh ton occhio che è elettrico quel coso ma sono elettriche anche le mie palle ah cosa stava facendo cioè lei colpita e la progressa si è incazzata si no oh che cazzo fai lancio le munizioni magnum si perfetto oh se mi attacchi mi incazzo te lo dico perfetto gli hai mostrato porco puff ho detto puff ed è esploso vabbè ha avuto almeno il tempo di chinarsi a me vai a sinistra bello il tesoro bagato nooo ah no l'ho perso a sinistra luna non mi esprim- perfetto due colpi basso e ora è uscita anche la plaga no si si no 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 oh è il mio compleanno giusto perché prima non ne trovavi adesso il gioco te le regala beh regala anche her e vabbè più o meno c'è qualcuno qua? no ho visto un caso da fare ah nel metto eh ciao se tu salivi fin da subito eh la madòi figa devi fare una corsa allucinante ok c'è un interruttore premerlo no non premerlo perchè ho paura che se lo premero gruttone e che è? ma dov'è? stati calo ti tiro due sberle madonna a pala proprio neve 39 dai vabbè ci sta nemo no c'è mercanti salviamo si ah vai avanti no andiamo avanti qua si salviamo salviamo perchè adesso in teoria c'è il killer 7 mi sa di si questa giornata eh 25? eh si affidabile potente magnum calibro 45 così potresti usare finalmente i colpi che stai trovando ah quello si però fidec io lo comprerei eh io invece a sto punto mancano tre dio mmm santo eh 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 non lo so sì per farlo ah no sì per questo qua lo faccio per ultimo non è niente da vendere sì c'è una roba da vendere penso cioè regà rendiamoci conto 6.5 di danno cioè arriva al danno standard del cecchino rendiamocene conto smeraldo eh no no non venderla da lince finchè non ha abbiamo poco abbiamo poco porca merda mi hai fatto cagare forse era meglio se salvavi tipo adesso salvo adesso? eh sì hai modificato tutto però no allora salvo qua sopra scrivi mi cago mi stavo per volare una scorreggia di felicità scusate mi sono trattenuto ma che cazzo la madonna figa se ci fosse Renato Pozzetto sarebbe fiero di me la madonna ciao ma adesso arrivano gli altri di corsa addio no beh di corsa no posso ancora eh ma se gli spari corrono là quello dietro si tipo spiattellato stavo per fare due piccoli come una fava no l'ho preso risulta ne è rimasto uno teoricamente sì fermati fermati due colpi ma poi perché corrono adesso? scusa è quello da dove è arrivato? non lo so ah forse era quello che ci siamo dimenticati strada facendo era quello che dava che diceva e del te stava cercando di attirare la tua attenzione ma guardalo come corre Anna non corre scivoli sulle banane occhio che c'è la dinamica quella dinamica cristo oh vabbè frost complimenti per la mia mo non sbattere scusa ho sbagliato ottimo altra zona altro regalo vero? siamo dentro una stazione che fareva? benzina benzina non mi piace questa cosa benzina ovunque e non mi do fuoco lo vedi? figa ce lo vedo ma questo è rispetto agli occhi rossi è vero? plagas bellissimo spaga la gamba e gli esce la testa oh nani è più duro eh questo con gli occhi rossi esplodi va grazie ah si io mi ricordo questo che posto è a parte va bene 10 complimenti questo qua è il posto dove c'è lo jumpscare di resident evil lo ricordi? si si è questo e questo cioè questo tu saresti morta con le cuffie si il bello è che io ho fatto headshot tutta carne avariata peccato mi sarebbe piaciuto una bella bistecca giusto adesso c'è capito no? lui pensa a mangiare invece che a salvare Ashley ma che diavolo ci faceva qui? è ironico almeno va bene dove figa era? quanto sp... boh dentro all'acqua penso magas larve eh no scusa ci sono due porte verdi cioè con l'aprire verde significa che dopo c'è un filmato o un quell o un quell no? si vabbè fai prima questa non si muove perfetto avrei l'ultimo perfetto vabbè meglio essere sicuri vada stavo per scoraggiare va però poi mi parte che passa molto 22 minuti leon oddio mi sa molto di roster è lì sotto ah buongiorno gli arrivo in testa lì si che gli arriva per la tonnella di piazza ma adesso viene su a prenderti si beh quello è ovvio ah sono anche lì vabbè allora pensa prima a quello oh 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 hey bambolo lo trovami intanto con la destra che sberle che tira sta pistola ma il bai di cecchino piuttosto che con il red 9 facca puttanga outlast outlast ah e il porcellino eh e la madonna il luca per come ha rasciato questo qua ci vogliono un po' più di colpi però è andato giù lo stesso ok quindi si scende a sto punto questi li abbiamo shottati no che cazzo stavano fai guardi fai vedere quel tavolo un attimo ho sentito allora quello che ho sentito scusa devo colpire il tuo miffa a sto punto però vedo che vuoi la più scena se ti metti in mezzo il coglione non sono morti le coltelle va bene dai ma gli stinchi eh ma come magari ti vuole addosso f***a duri ragazzi questi sono più duri cazzo finiti i colpi palle muori dammi i colpi vai affanculo ecco quando hai bisogno cosa diamine mangiavano qui bello eh salve non ti è di accorto che ero flags calmati perfetto niente simpatico ragazzo si ho capito half million porca troia arrivo dammi un attimo no eh qua è un cazzo di niente è un castamazzo come si dice qua vicino aha pietra della fede figata quindi andrà nella lince esatto perché andrà nella lince per forza perché è particolare sì 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 poi si vede che è un occhio posto 25 minuti dai cerchiamo una troviamo Ashley no gli ultimi 20 colpi di red 9 oh grazie gentilissimo porca merda ok Ashley wait no aspetta come facevano a sapere che stavo guardando diletta ah ok ti ha fatto vedere la mappa sì col triangolo però è piuttosto semplice diciamo perché ti ha fatto vedere la mappa immediatamente perché adesso inizia un po' il labirinto esatto oh qua salviamo perfetto mi ricordavo che poi c'è il dove la dov'è la macchina da scrivere dov'è la macchina da scrivere mercante ostia mi dole aspetta forse è di qua no qua ci siamo entrati vacca merda scherzavo tantissimo figa vado un attimo dal mercante piuttosto oddio vendigli il gatto ah ok non è male eh sì non ho i soldi vendi il gatto vendi il gatto non è completo però sì che è completo no manca un occhio ah non andava in mezzo però figa eh sì frega il cazzo perfetto vendi anche lo smeraldo e adesso ce l'abbiamo gibernaggio oh yes te lo fa proprio vedere che l'ha messo sì sì vedi che c'ha tipo le gomitiere faigo ma dove cazzo è la boom cazzo eh non mi arriva preso dai no non esplode che poale andiamo a scicchierare figa che voli che fanno ah il bastardo in petto eh sì 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 è lui rimani in mi ah no eh si toglie non è morto sì sì no no che cazzo cos'era una brigata tipo magia cocco un stronzo muo ah no sì sì ci arrivano ahee giù ok adesso magicamente si apre e ti ritrovi tipo 5 persone davanti come mi non compro niente ci sono tipo vedo le le luci vedo le balestre ti devi allontanare che pezzi di merda dai andiamo con un like a virgin per voi like a virgin ma si strunz ma io non capisco devi entrare o meno sì tipo forse devo ammazzarli tutti e poi figa figa sì ma che palle adesso rimane aperto oh fonda ok dai che sono 30 ii vecchio calmo nell'occhio poverino boom adesso è anche divertente doveva la macchina da scrivere figa penso che la troveremo tra poco no secondo me non ti può salvare perché stai per arrivare da eh no è qua perfetto ragazzi concludiamo qui l'episodio mi divolzare io mi sto scorreggiando ma non si sente va bene ciao ragazzi ci becchiamo al prossimo episodio ciao